GF Vip, Luca Onestini come Marco Predolin, la frase che non piace . . Luca Onestini come Marco Predolin, la frase incriminata al GF Vip. Il grande fratello Vip è il programma del momento. . 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 Il conduttore è stato proprio al centro delle critiche del web che ne richiede a gran voce la squalifica. . Basti pensare a come ha reagito il grande fratello l'anno scorso quando Clemente Russo ha più volte chiamato Bosco Cobos con termini poco eleganti, per usare un eufemismo, per non parlare delle sue dichiarazioni misogine e pericolose per il quale non è ancora stato perdonato da molti membri del magico mondo dello spettacolo. . Luca Onestini, che in molti vedono annoiato dall'esperienza targata al GFVIP, è supportato dai suoi numerosi fan oltre che dalla sua fidanzata Soleil Sorge la quale è stata più volte ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. . Domani, durante la diretta con Ilari Blasi, Marco Predolin e Luca Onestini verranno presi in esame oppure si preferirà mettere sotto al tappeto tutto quanto. . 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